Buona giornata cari amici social follower del vostro deluxe prima di parlare come vedete già dall'immagine di videocopertina del primo trofeo stagionale continentale volevo ovviamente augurarvi buona vigilia e buon ferragosto 2024 a tutti appunto ribadendo sempre riferimento all'immagine di copertina questa sera parte ufficialmente la stagione di calcio continentale con la UEFA Super Cup Real Madrid Atalanta ovviamente diciamo sulla carta la più che favorita è Real Madrid però diciamo Atalanta ha lavorato in queste settimane in questo mesetto e mezzo anche per questa partita dispiace un po' come detto da mister Gasperini per i sopprusi di mercato in riferimento a Coppa Miners però diciamo speriamo di vedere un Atalanta giocare alla pari o quantomeno di saper fronteggiare i Blancos dove dall'altra parte ci sarà il debutto dal primo minuto della panchina di Kylian Mbappé diciamo acquisto che comunque si era già pronunciato poco prima del termine della stagione 2023-2024 calcistica Super Cup Europea che torna in esclusiva su Sky Sport con pre partita alle ore 20 quindi io per esempio che sono cliente Sky potrò finalmente vedere la Super Cup dopo che per queste stagioni scorse era su Prime quindi per me era impossibile vederla che dire speriamo in bene per l'Atalanta una vittoria certo è difficile ma non impossibile l'importante è come giocheranno in campo ciao a tutta la prossima ciao